Buongiorno, mi hanno messo in competizione col coffee break, ne sono consapevole. Sarò breve, sarò concisa. Sono qui tutto il pomeriggio, se avete delle curiosità, se volete discutere, sono qui fuori, possiamo andare avanti a discutere, ma volevo proprio fare di tutto per sottolineare l'importanza della leadership se vogliamo uscire vincenti da questa situazione. E la prima cosa che vorrei fare proprio è ritornare da dove siamo venuti, perché ci vuole un salto di paradigma, non un piccolo miglioramento, ma proprio un salto nella leadership. Quando io ho cominciato 40 anni fa, leadership non era tema. Bastava avere una buona competenza tecnica e le persone venivano messe a capo di gruppi di 70-80 persone con i quali riuscivano a non avere mai neanche una minima relazione. E chi di voi è più vicino alla mia età che non ha quello di un millennial si ricorda che non era proprio facilissimo vivere in queste organizzazioni. Non c'era attenzione al benessere delle persone. Sei mesi di fotocopiatrice non te le toglieva nessuno. Un po' di angherie le dovevi sopportare, ma d'altronde eri abituato da casa, la scuola, l'università, la sofferenza collegata alla carriera, eri assolutamente abituato. Poi si è capito e si è pubblicato 4,8 miliardi di libri sulla leadership. Perché? Perché si è capito che se la gente viene coinvolta, è chiaro che le performance dell'azienda migliorano molto. Solo che è rimasta una cosa, molto spesso fino ad oggi, che basta la competenza tecnica per avere una posizione di forte potere in azienda. Poi, una volta raggiunto, anche mi è successo diventare direttore generale senza alcune capacità di leadership, ma avendo il potere e avendo il successo, viene chiamata la dottoressa Bauer che gli insegnerà a diventare dei bravi leader. Secondo voi, quanta motivazione e consapevolezza ha una persona straconfermata dalla propria azienda ad ascoltare la dottoressa Bauer che gli cambia proprio lo stile con cui loro hanno avuto successo. E tutti i modelli di queste persone sono sempre stati modelli di leadership, command and control. Top down, chiari concetti che le persone dovevano capire, chiari comportamenti che dovevano mettere in atto. Di partecipazione non si parlava. Ora, non è difficile formare una persona a cambiare proprio stile di leadership. Perché io l'ho fatto per tanti anni, ho lavorato solo semplicemente con imprenditori che erano passati attraverso gravissime situazioni. Persone che erano state rapite, persone che avevano avuto un infarto, persone che erano gravemente depressi e che dovevano a questo punto, uscendo dalla situazione di crisi, rivedere totalmente il loro rapporto con la vita, col lavoro, con le persone che lavoravano con loro. E vi giuro non era difficile, erano persone consapevoli. Ma quando ormai sei arrivato, la tua consapevolezza è molto bassa. Allora, la cosa che vorrei fare, vorrei darvi tre buonissimi motivi per ripensare la leadership nelle vostre aziende, oltre alla vostra leadership se volete. La prima, e qui faccio come Luca Mercalli, il prima è brutto. In Italia abbiamo solo il 5% di persone che sono davvero appassionati del lavoro che fanno, coinvolti a pieno. Abbiamo un 65% di persone che, buona grazia, fanno quello che gli chiediamo di fare, ma con un minimo di investimento. E poi la terrificante, terrificante numero del 30% delle persone a cui piace fare danno all'azienda. Ora, io capisco, voi siete molto interessati ai clienti, questo in questi giorni mi è diventato molto chiaro. Però capite se guardate a questi numeri e pensate di muovere qualcuno di questi 65 e appassionarvi un po' di più. Questa è una miniera d'oro, vale come dei clienti nuovi, riuscire a fare di più con quel scarsa numero di persone che abbiamo. Perché a parte il fatto che davvero abbiamo poche persone, cerchiamo anche di fare sempre di più con meno persone, per cui se non sono appassionati non andiamo molto lontano. Un'altra buona ragione è che il futuro è nei millennials. 117.000 grandi talenti nel 2018 sono andati all'estero. Domanda, ma perché vanno all'estero? E perché non ne vogliono sapere di tornare indietro? Non c'è PNR che può aiutarli se non cambiamo le organizzazioni. Perché vanno in posti dove si cerca di prendere in considerazione anche le loro ambizioni, i loro bisogni e non sono più abituati alla sofferenza di 40 anni fa. E non la vogliono, vogliono essere coinvolti. E questo perciò è un bel problema, perché il numero dei talenti che lasciano aumenta costantemente. Negli ultimi dieci anni è aumentato del 45%. Una terza buona ragione è l'oggi, è la situazione che è stata descritta ampiamente e che ha creato molta fatica nelle persone, molta depressione, molta incertezza. E noi dobbiamo gestire persone che in azienda hanno anche loro questi problemi di paura, incertezza, fatica e depressione. E questo perché è importante? Perché noi affrontiamo una bufera. Solo che vorrei sottolineare, ogni leader deve riconoscere che nel suo team ci sono persone che quella bufera la affrontano con barche molto diverse. E questo è il punto che vorrei sottolineare con voi, perché sono spesso cose alle quali non si pensano. Cioè, io non sto dicendo la barca come metafora di situazioni economiche e sociali, ma la barca come atteggiamento mentale, forze psicologiche, mindset che possono essere molto utili nonostante la bufera di fare veramente le cose giuste, di muoversi, di non deprimersi. Allora, una delle cose che vorrei sottolineare, che spesso non è conosciuta, è che le persone sane, sottolineo, sane di mente, imprenditive, in particolar modo gli imprenditori, quando pensano al futuro vedono un mare tranquillo, non pensano a bufere, se no non si sarebbero mossi, non avrebbero fatto quello che poi di fatti hanno fatto con alcuni rischi. Quello che hanno scoperto negli anni Ottanta è che le persone sane non sono persone che vedono la realtà com'è, ma hanno una lieve distorsione in positivo della realtà e del futuro. Cioè, i sani di mente sono ottimisti sul futuro e vedono una lieve distorsione nelle loro capacità di affrontarlo e una lieve distorsione in positivo su quello che avverrà. La mia domanda per voi è, ma chi sono le persone che ci vedono benissimo? Che non hanno questo ottimismo ma che proprio sono molto realisti? Chi saranno? Basta una lieve depressione per vedere la realtà così com'è. E dobbiamo chiederci, abbiamo bisogno di persone depresse in azienda. Le uniche persone in azienda che dovrebbero non avere illusioni positive sono gli avvocati e quelli che si occupano della sicurezza. Benvenga che ci vedono malissimo. Però tutti gli altri non dobbiamo deprimerli schiacciandoli la realtà in faccia e demoralizzandoli. Ma unire a una visione dei problemi che abbiamo anche quel tocco di ottimismo che gli fa venire voglia di affrontare la situazione. E la cosa interessante è che questi studi sono stati fatti in oncologia. Si è visto che chi ha illusioni positive sopravvive a un tumore con più facilità che una persona lievemente depressa. Cos'altro serve? Serve una percezione di controllo. Nel senso che se non hai una visione chiara di ciò che sta succedendo o dove si andrà a finire, ne hai una soluzione immediata per ripristinare il senso di controllo, l'incertezza produce molto stress al nostro corpo. E cosa fai quando non hai più la sensazione di avere un controllo? Preferisci fare cose che ti allontanano dalla realtà. Se voi guardate certe volte a Milano, la mattina ascolti prima pagina, senti delle terrificante notizie, poi esci e vedi la gente che fa una vita goduriosa. In qualche modo si cerca di allontanare da sé le avversità o addirittura di bloccarsi e non fare più nulla. Per cui la percezione di controllo è una cosa importantissima e qui vorrei citare il concetto dell'auto-efficacia che dovrebbe diventare un punto importantissimo per chiunque guida persone attraverso momenti difficili. L'auto-efficacia, come questo grandissimo psicologo del Novecento ha definito, è la fiducia delle persone nelle proprie capacità. Guardate che la fiducia qui si intende non che una persona sia realmente capace, ma che una persona percepisca se stessa come capace. Ieri ho visto due bambini con i genitori americani. Il padre aveva preso due biciclette. Sapete che qui ci sono un sacco di biciclette si possono usare. Il primo bambino l'ha presa e poi con grande fatica ha cominciato a farla funzionare. Il secondo l'ha preso, devono aver avuto un'età simile e al primo movimento che non è riuscito a controllare ha mollato la bicicletta la mamma. Auto-efficacia è prendere la bicicletta pensando che in qualche modo sbucciandomi le ginocchia, provando e riprovando io ce la farò. Oppure alla prima difficoltà mollare. Ora, quello che si dice nella leadership è un buon leader migliora l'auto-efficacia delle persone. Ma capite che l'auto-efficacia solo in piccolissima parte è genetica. In gran parte è educazione, esperienze di vita, successi e insuccessi. Ma se noi passiamo attraverso realtà educative o abbiamo un capo che demolisce totalmente questa nostra auto-efficacia, se posso darvi un consiglio, cambiate mestiere, cambiate azienda, cambiate tutto. Perché ve lo dico? Perché la cosa interessantissima è che il livello di auto-efficacia correla col vostro sistema immunitario. Una botta la vostra auto-efficacia e tre giorni dopo avete un'influenza. Cioè è un'energia vitale che è l'unica cosa che ci rimane per affrontare le situazioni più difficili e combattere per ottenere una buona riuscita. Se pensiamo invece che agli aspetti cognitivi, agli aspetti emotivi, qui ci sono delle cose interessantissime di cui in genere non si parla. E sono le emozioni. Allora, questo studio qua, no, scusate, dov'è il pointer? Eccolo qua. Questo studio qua è uno studio in cui hanno preso a delle persone che lavoravano dei campioni di sangue e poi gli chiedevano quando erano molto attivi, cosa senti, cosa provi mentre lavori. Vedete che in alto a sinistra quando le persone lavoravano molto con emozioni negative il cortisolo che è l'ormone dello stress si eleva ma anche l'ormone adrenalina e noradrenalina che è l'epinefrina. Per cui persone che fanno un mestiere che non gli piace in ambienti non gradevoli per loro con una certa avversione per quello che fanno hanno un aumento dell'ormone dello stress. Ma guardate quanto è interessante il fatto che le stesse persone magari o altri che lavorano moltissimo ma che sono proprio coinvolti emotivamente, gli piace quello che fanno, il cortisolo scende. Non è incredibile quanto il nostro corpo vive con noi, il nostro modo di lavorare? E quanto può all'organizzazione? È un buon leader incidere su questo. Qua sotto vedete passività che è la situazione peggiore, non lavorare perché ho perso il lavoro, perché sono in prigione, perché sono in pensione e non mi sono preparato e l'altro, l'ultimo è quello che farete tutti domani, non fare niente stare benissimo. Per cui la cosa interessante è che le nostre emozioni producono un effetto sul nostro corpo e se il nostro corpo deve funzionare bene è importante che le emozioni siano positive. Emozioni positive non significa non essere severi nelle aspettative, ma significa una leadership più positiva. Ma qui viene la cosa veramente interessante di questi anni, perché questo primo studio di cui vi ho parlato è di vent'anni fa, ma questo ultimo studio che è della Kelly McGonigal è che lei ha detto ma proviamo a vedere l'ormone anti-aging, quello dell'invecchiamento. Quello è interessante perché è un ormone che nei momenti di stress protegge il nostro cuore da possibili danni. Sapete che stress e problemi cardiaci è molto diffuso. Allora cosa ha visto? Che quando un lavoro che noi dobbiamo fare noi lo vediamo con autoefficacia, cioè pensiamo di potercela fare, ce la sentiamo anche se è difficile, l'ormone di cui si sta parlando qua, si eleva e protegge il nostro cuore. Se invece noi di fronte a un lavoro difficile pensiamo come quel bambino davanti alla bicicletta, non ce la farò mai e se continuiamo a stare in quella situazione l'ormone si abbassa e non ci protegge più da un punto di vista cardiaco. Vi faccio vedere solo un'altra solo per dirvi di che cosa stiamo parlando. Quando hai una leadership positiva, una persona che si sente apprezzata, guardate in basso il ritmo cardiaco, confrontandolo con un cuore che lavora in una situazione di frustrazione. Non è impressionante? E guardate che di tutte queste cose noi non ci accorgiamo, cioè l'adrenalina, il correre eccetera, ci fa passare sopra, non è che diventiamo consapevoli di che cosa succede nel nostro corpo. Allora, una cosa che per concludere sulle emozioni, libro interessantissimo se volete leggere, Quando il corpo dice no, sono gli studi fatti in Canada sulle situazioni specifiche che ci danneggiano la salute. E vedete l'incertezza, l'assenza di controllo, l'assenza di informazioni e il conflitto. Pensate alla situazione di oggi e pensate se non abbiamo bisogno di leader che ci diano una mano, di organizzazioni che si preoccupino. Conosco molte delle organizzazioni che sono in questa aula e so che molti stanno facendo di tutto perché questo avvenga. Ma tutto questo passa anche attraverso i singoli leader a tutti i livelli dell'azienda. Allora, questo è quello che sognano le persone quando non ne possono più. Presente il... Sono talmente nauseato dalla mia azienda, dall'incertezza, dai conflitti eccetera, che quando io ero giovane si sperava nel ciringuito in Messico. oggi il grande sogno è il B&B. Per cui in America se ne vanno e magari mettono in atto veramente una di queste cose. In Italia il problema veramente grave è che le persone un po' se ne vanno, ma il peggio è quelli che restano. Restano sognando un B&B. E quelli davvero sono in quel 30% di cui parlavamo sull'engagement. Allora, cosa si può fare per aiutare le persone a migliorare la loro capacità e il loro mindset? Io ho lavorato nel passato e questo signore non vuole più lavorare, anche lui è stressato ormai. eccolo. Io ho scritto con Dan Peterson un libro su come si portano le persone al successo. Perché nello sport, negli anni 80, si è capito l'importanza di come trattare le persone perché possano, quando sono al cancelletto, usare tutte le loro competenze tecniche e badare bene alle loro emozioni. Così come nei Marines ho lavorato in California sul fatto che i Marines devono gestire invece la rabbia. Adesso non vado nel dettaglio, però rabbia e paura sono state le emozioni di cui ci si è occupati e Dan Peterson, se avete possibilità di incontrarlo, di invitarlo ancora oggi, è il massimo che voi potete immaginare su questo tipo di competenze. Ora, non siamo tutti Dan Peterson, cosa possiamo fare? La cosa che possiamo fare è un quick win. Voi tutti sapete cos'è un quick win e come dicono gli americani, quando vai a caccia, metaforicamente, lascia the fat rabbit, la lepre cicciotta, a quelli che sono all'inizio della loro carriera, cioè incoraggia le persone, dandogli una possibilità di vedere che sono capaci. Se invece avete relazioni più strette con le persone, potete parlare direttamente dello stato di ansia, di tensione, di incertezza, guardate cosa è stato fatto. Per esempio, un mio amico HR, quando sono tornati dal lockdown, ha messo le persone a gruppi a riflettere su what's missing, what's broken, cosa è andato perso durante la pandemia, cosa si è rotto e cos'è che mi ha danneggiato di più. E poi mettevano insieme le idee di come è meglio affrontare e migliorare la situazione. Questo prevede però che le persone siano abituate ad aprirsi, cosa che non è proprio nella cultura italiana molto diffuso. Ci dobbiamo arrivare. Una seconda cosa interessante della banca INCH del Lussemburgo, un top management, vedete hanno delle carte, sono una pratica neozelandese sviluppata da un gruppo che si occupa di leadership, 40 carte con 40 emozioni. Gli executive dovevano decidere quale sono le 5 emozioni che servono per le nostre persone per essere di successo. E poi, messe insieme quelle più gettonate, hanno pensato cosa può fare l'organizzazione per promuovere queste emozioni. E allora il problema è proprio, le persone magari oggi in azienda dicono, ma perché parlare di emozioni? E vorrei darvi una spiegazione perché è importante, perché noi abbiamo questo sistema limbico che si attiva quando abbiamo delle emozioni molto forti. Ricordatevi l'ultima volta che vi siete molto arrabbiati, che è arrivata una notizia che vi ha veramente dato fastidio. Non avete cercato qualcuno a cui parlare? Qualche brava persona che non dicesse subito dai ti aiuto io, ti dico io, tutte queste interferenze, mentre tu volevi solo scaricare la tensione. Come dicono gli americani, dare un nome alle emozioni. Nel momento in cui io riesco a dire che cosa provo e a spiegarlo a qualcuno, il sistema limbico si viene disattivato e io reinserisco la razionalità. Ma sapete anche il contrario? Se non mi si lascia parlare, io rimugino sulla cosa, mi incattivisco, mi arrabbio, mi chiudo e non sono più disponibile. Perciò ascoltare le persone è davvero importante. Ma sappiamo ascoltare le persone? Anche questo vuole bere il caffè. Se vedete nei 360 il penultimo punto, le cose che non sanno fare bene gli executive delle multinazionali e sapere discutere con le persone. E vi posso garantire che è vero, perché su 780 feedback che ho avuto, cosa ti ha indotto a lasciare l'azienda o ti ha fatto venire voglia di lasciare l'azienda, ecco i tre punti che sono stati gettonati di più. A tutti i livelli, guardate dall'altissimo livello dirigenziale fino all'ultimo assunto. Ma se noi li ascoltassimo di più, li coinvolgessimo di più, non sarebbe una gran bella cosa? E come dice la Deloitte, è ora di uscire dal paradigma del controllo e ottenere una maggiore partecipazione delle persone. Ma voi siete pronti? Questa è la domanda, perché non è mica tanto facile. E nell'ultimo minuto che mi resta, 30 secondi, vorrei dirvi una cosa. Cosa potrebbe andare storto? Potrebbe andare storto? E questa forse è la slide più importante che vorrei mostrarvi. E che bisogna portare persone che sono state abituate a essere gestite da capo a piedi e dal proprio capo e semplicemente eseguire passivamente e altrettanto passivamente ridurre la partecipazione. Bisogna portarli a una massima autonomia per loro possibile. Uno, dovete pensare positivamente che tutti noi possiamo migliorare. Ma io sono nata in Sicilia e un detto siciliano dice chi nasce quadro non muore rotondo. Questo sarebbe, se pensate così, la leadership non è per voi. La seconda cosa è che non si può fare un salto. Non si può fare un salto. Questa è la prima cosa grave. Perché io ho visto persone che sono uscite da un corso di due ore, come qualche volta mi dicono, in due ore lei ha la possibilità di migliorare la leadership dei nostri dirigenti. In due ore prendiamo un caffè e facciamo due chiacchiere, ma non cambia il comportamento. Io ho studiato comportamentismo e siamo i più cauti nel pensare che si possa cambiare di brutto. Solo i manuali dicono che si può in one minute diventare un bravo manager. Ma il problema è che bisogna darci per gradi. Se butti le persone e gli dai il massimo dell'autonomia, faranno tantissimi errori e vi confermeranno che l'autonomia non la meritano. E questo sarebbe un disastro. Però se voi li portate all'autonomia, vorrei darvi un altro suggerimento di cautela. Guardate, forse chi ha figli adolescenti e c'è passato, lo ha sperimentato con i figli. Tu speri tanto che diventano autonomi, ma tanto. Un giorno li scopri autonomi e ti viene un mal di pancia terribile. Esattamente la stessa cosa con i leader. I leader vogliono essere i primi attori, ma i leader oggi devono diventare dei grandi registi. Questo è il messaggio principale da portare a casa. Grazie, grazie. Grazie Beatrice, vieni, vieni. Grazie mille. Grazie. Abbiamo anche risparmiato due minuti. Fantastico, fantastico. Grazie. Cosa dire? Fa perfetto. Grazie, grazie.